salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi vi porto sul canale un'evoluzione di assetto corsa questo gioco che ha praticamente già dieci anni sulle spalle ma che con le sue mod creati da sviluppatori terze parti diciamo non sta invecchiando minimamente anzi sembra la trama del film di benjamin button allora oggi la moda che andremo a vedere fa diventare assetto corsa un gioco dedicato alla formula 1 e lo fa in maniera davvero davvero pazzesca questa moda che si chiama grand prix 2024 vi lascio qua sotto il link in descrizione di dove l'ho scaricata io bisogna acquistarla costa circa 11 euro adesso che in promozione almeno quando l'ho acquistata io se no normalmente costa 18 euro quindi una mod completa non dovete fare niente ne mettere skin non dovete fare assolutamente niente perché le auto sono già tutte pronte tutte le auto 2024 di formula 1 pronte con le livre aggiornate praticamente adesso quindi super super aggiornate come vedete le auto sono davvero spettacolari le abbiamo tutte come abbiamo detto adesso ve le faccio vedere ragazzi guardate che spettacolo e poi ovviamente di ogni auto c'è i numeri in base al pilota che la sta utilizzando quindi abbiamo tutte le auto ma non è solo questa la novità è quello che ci dà questa mod quanto anche la sua potenzialità nell'utilizzo una delle chicche di questa mod grand prix 2024 che ogni auto oltre avere prestazioni diverse una dall'altra che rispecchiano quello che sono le prestazioni delle auto nella realtà per quanto riguarda appunto le performance abbiamo dei volanti e dei display dedicati ad ogni auto quindi non è solo volante che su tutte le auto e cambia solo il simbolo il logo in mezzo al volante no qua abbiamo tutto dedicato infatti guardate ragazzi che spettacolo ogni auto ha un volante che riproduce quello reale è completamente diverso uno dall'altro come è giusto che sia guardate che spettacolo una meraviglia cioè solo questo ragazzi ripaga i soldi del biglietto avere volanti diversi per ogni auto rende tutto di un realismo assurdo veramente veramente assurdo per una mod creata appunto da terze parti ricordiamoci questo è una mod creata da sviluppatori di terze parti soprattutto appassionati che hanno appunto queste capacità e le mettono in pratica in un gioco che tuttora ci sta dando ancora tantissime tantissime soddisfazioni come assetto corsa poi ovviamente anche quello che è stato implementato è la fisica dell'auto e anche l'usura dei pneumatici ovviamente per avere la massima resa con questa mod bisogna avere la csp installata la custom shader patch per assetto corsa perché ovviamente quella ci dà veramente il massimo si fa esprimere al massimo assetto corsa con le varie mod quindi sfruttando la csp avremmo proprio esteticamente l'usura dei pneumatici dove le abbiamo spiattellati cioè veramente tanta tanta roba e poi un'altra cosa super interessante sono le gomme rain quindi le gomme per quando piove ragazzi tanta roba anche questa che ci dà veramente un realismo pazzesco se non siete contenti neanche di questo c'è un'altra piccola chicca che ci dà la possibilità di essere utilizzata anche se serve a poco ma rende tutto veramente molto molto realistico ma la scopriremo dopo poi andremo a vedere altre due mod dedicati invece all'interfaccia grafica quindi avremo la possibilità usando simab di andare ad installare in sovraimpressione la grafica che ci viene proposta quando guardiamo un gran premio di formula 1 quindi con i tempi i nomi con la stessa grafica appunto di quella che vediamo in televisione un'altra figata incredibile e poi un'altra mod sempre sfruttando simab che ci dà la possibilità di mettere in sovrappressione i dati sull'alo se utilizziamo l'inquadratura del camera car quello sopra al pilota diciamo sopra la testa del pilota quella che normalmente ci viene proposta in televisione possiamo andare a mettere in sovraimpressione ragazzi quello che sono i dati sull'alo come succede appunto quando guardiamo un gran premio in televisione ovviamente quando utilizziamo l'auto dall'esterno o dall'interno come se fossimo seduti nell'abitacolo dell'auto quella sovraimpressione sarebbe meglio non metterla non ha molto senso però un'altra piccola chicca che rende il tutto ancora più realistico queste due mod per quanto riguarda la sovraimpressione vi lascio qua sotto i link in descrizione anche di queste non fanno parte del pacchetto gran prix sono altre mod dedicate appunto a quello che è l'aspetto grafico però tutte e due hanno bisogno che ci sia installato nel vostro pc simab appunto questo software dedicato all'interfaccia da andare ad applicare ai giochi di corsa quindi ragazzi detto tutto questo però direi di vedere in azione questo grand prix 2024 perfetto ed eccoci all'autodromo di monza questa è l'auto vista dall'esterno guardate che spettacolo anche il sound è tanta roba andiamo a vedere le altre inquadrature questa è l'altra inquadratura esterna un po' più da lontano inquadratura da sopra al pilota quella in cui potremo andare a mettere in sovraimpressione i dati sull'alo come vi dicevo prima a inizio video dopo di che abbiamo l'inquadratura direttamente dal frontale dell'auto poi la parte interna senza il volante e poi abbiamo quella che ovviamente la mia preferita è probabilmente la preferita di tanti quella all'interno dell'auto e ragazzi guardate il dettaglio pazzesco guardate anche le gomme come si vedono i granulini attaccati è veramente incredibile anche il carbonio che ricopre quei diciamo quelli flap che vanno sopra alle ruote e poi il dettaglio del volante è pazzesco pazzesco è incredibile il lavoro che è stato fatto dietro a questa moda quindi capite che pagare una mod anche a suo prezzo pieno adesso è a 11 euro secondo me è l'istravale ma anche a 18 euro avere tutte le auto avere un gioco di formula 1 praticamente all'interno di assetto corsa è davvero incredibile fatto con questo livello grafico e di dettaglio adesso proviamo a partire giusto per farvi vedere anche in movimento l'auto guardate che spettacolo è una meraviglia anche l'effetto della velocità è tanta roba è tanta roba e se ci fate caso adesso da questa inquadratura non si vede c'è anche l'antennina quella che hanno tutte le auto di formula 1 che continua a vibrare in base appunto a quello che è la velocità dell'aria che sta ricevendo è davvero davvero super super interessate guardate che meraviglia questa è l'inquadratura quella che preferisco che preferiscono praticamente tutti i piloti di simulazione però adesso direi di andare a vedere quello che è il discorso dell'alo è per chi usa l'auto dal camera car che viene posizionato sopra la testa del pilota possiamo andare appunto attivare l'interfaccia che va a sovrapporsi all'alo quindi adesso direi di uscire da questa schermata e di entrare nella schermata con l'alo perfetto vedete che adesso siamo nell'inquadratura dal camera car sopra la testa del pilota non c'è la sovraimpressione perché ho attivato la modalità automatica di questa mod che è dedicata appunto a ricreare la sovraimpressione di tutti i dati dell'auto sull'alo c'è la possibilità di lasciarlo fisso anche quando l'auto è ferma io preferisco andare ad attivare la funzione in cui la sovraimpressione appare quando l'auto è in movimento infatti guardate come l'auto si muove a fare la sovraimpressione è uno spettacolo il fatto che riproduce a pieno quello che è la sovraimpressione che vediamo normalmente in televisione quando guardiamo una gara di formula 1 è davvero davvero super e abbiamo proprio tutti i dati uguali anche il nome vedete c'è il mio nome all'interno della sovraimpressione e questo rende davvero questa mod dal punto di vista grafico appunto davvero fantastica e poi abbinata alla mod grand prix 2024 riguardante le auto di formula 1 adesso vi faccio vedere che se mi fermo guardate le gomme guardate guardate le gomme e vedete che la sovraimpressione va via poi se io parto la sovraimpressione ritorna magicamente ma guardate le gomme che effetto che hanno cioè praticamente sembrano vere sembrano vere talmente hanno questo effetto sfruttando appunto la csp la custom shader patch dedicata appunto ad assetto corsa non sto a dilungarvi a spiegarvela perché praticamente ci sono miliardi di video su youtube che la spiegano la spiegano probabilmente meglio di come la spiegherei io quindi questa è l'antennina che vi dicevo prima che si muove appunto con l'aria che gli arriva addosso e adesso un'altra cosa che volevo farvi vedere oltre l'alo è la possibilità di andare a mettere sempre come mod esterna sfruttando simab la grafica televisiva per quanto riguarda i tempi di gare di stacchi che fa il miglior tempo tutta quell'interfaccia grafica che normalmente vediamo quando guardiamo un gran premio di formula 1 in tv quindi adesso vi faccio vedere anche questa possibilità guardate ragazzi che spettacolo con tutta la lista dei nomi ci sono anch'io mone montanari nella posizione numero 6 e la cosa bella che ha proprio l'aspetto grafico di quella che guardiamo normalmente in televisione guardate che realismo avendo questa interfaccia grafica che rende tutto davvero davvero pazzesco è parliamo sempre di un gioco ragazzi che ha dieci anni è dieci anni ma con il lavoro di tutti gli sviluppatori di terze parti praticamente sta ringiovanendo ma anche di tanto guardate che bello sotto vedete anche il mio tempo sotto qua in basso e poi in alto in mezzo apparirà il tempo di chi fa il miglior giro in questo caso non sono io anzi neppure è venuto addosso qualcuno vediamo chi mi è venuto addosso è una red bull aiuto sono andato largissimo che quando parlo non riesco a guidare ovviamente abbiamo anche il drs che possiamo andare ad attivare che rende tutto ancora molto più realistico è pazzesco adesso volevo arrivare sul traguardo solo per farvi vedere che chi fa il miglior tempo appare nella grafica in alto a quello che è la nostra interfaccia grafica non fate caso come sto guidando perché mentre parlo non riesco perdo proprio tutto il senso però era giusto per farvi vedere ecco vedete che norris ha fatto il miglior tempo in uno 25 946 è fantastica è fantastica ovviamente con questa inquadratura non metterò l'alo perché comunque secondo me l'aspetto bello di quella sovraimpressione quando si utilizza l'inquadratura presa da camera karma sopra la testa del pilota come succede ovviamente in televisione quando stiamo guardando un gran premio adesso vi faccio vedere le gomme da bagnato da utilizzare appunto quando piove che rende ancora più affascinante questo gran prix 2024 e poi vi faccio vedere quella piccola chicca che vi ho detto a inizio video quindi adesso andiamo in box e installiamo le gomme da bagnato per avere le gomme da bagnato dobbiamo ovviamente scegliere una gara bagnata quindi dobbiamo attivare la pioggia nel meteo e poi possiamo utilizzare sia la pratica che la gara tutto quello che vogliamo nel senso che possiamo fare sia la pratica che le gare e avremo le gomme da bagnato adesso lascio gara così si vede anche la luce rossa che hanno le formula 1 dietro che accendono appunto quando piove che anche queste gran prix 2024 hanno e funziona come nella realtà allora andiamo a fare un bel via e vediamo come sono queste gomme da bagnato con la luce posteriore appunto quando non si vede niente quando piove e davanti diventa un muro d'acqua perfetto ragazzi guardate le gomme da bagnato cioè un realismo incredibile anche da questo punto di vista e guardate le luci dietro al posteriore dell'auto che sono accese in tutte le auto appunto perché si crea questa nube d'acqua che va ovviamente a non far vedere le auto ma questa luce la dovremmo riuscire a vedere guardate che spettacolo adesso succederà un casino allucinante sul bagnato qua alla prima variante di monza sicuramente guardate che guardate che roba le macchine scivolano tantissimo ecco il bagnato cambia proprio quello che è la fisica della macchina lo sterzo diventa davvero difficoltoso utilizzare quest'auto in queste condizioni ma è davvero davvero affascinante il realismo che andiamo a creare no non l'avevo vista meno male che ci avevano i led che botta che gli ho dato meno male che c'era il led non c'era il led non la vedevo uguale tanto non l'ho vista anche con led quindi diciamo che la luce dietro nella nube d'acqua non l'ho vista e se qualcuno mi è venuto addosso madonna che casino aspettate che mi fermo perché qua se no mi succede un macello però guardate ragazzi è una meraviglia vedere queste gomme da bagnato adesso ve le faccio vedere anche da un'altra inquadratura guardate che spettacolo bellissime bellissime e adesso vi faccio vedere con la piccola chicca che vi avevo detto inizio video che però è davvero super super affascinante qui adesso torniamo i box e facciamo una giornata test e voi direte perché è una giornata test perché dobbiamo provare delle modifiche che abbiamo fatto all'auto e quindi perché non montare con la griglia di metallo che viene installata sull'auto che va davanti alle pance che va a rilevare tutte le condizioni intorno all'auto dal flusso d'aria tutto quello che succede intorno all'auto perché alla fine è una sorta di super sensore globale e quindi voi direte si può fare anche questo sì con questa moda grand prix 2024 per assetto corsa si può fare anche questo un'altra cosa che mi stavo dimenticando la possibilità di inserire anche i meccanici in questa moda che possiamo andare ad attivare o disattivare andando a trasferire un file dedicato all'interno della cartella in cui ovviamente c'è scritto tutto nelle info della moda e nel file text che andiamo a scaricare che c'è all'interno della moda possiamo andare appunto attivare anche i meccanici che ovviamente hanno una durata breve nel senso che appaiono per 5 secondi 10 secondi se non lo so poi spariscono e se ne vanno magicamente questo anche sulla griglia di partenza quando fate una gara però il fatto che spariscono un po' magicamente non li rende super affascinati però rende affascinati il fatto di vederli tutti sulla griglia di partenza io li ho attivati solo sulla ferrari per farvi vedere appunto questa possibilità però non che a me faccia impazzire particolarmente però mi fa impazzire particolarmente questa cosa quindi entriamo in quello che sono le possibilità di regolazione d'assetto dell'auto e andiamo in aerosensor qua in alto vedete aerosensor e ragazzi se andiamo a mettere uno guardate che appare la griglia di metallo con tutti i sensori che rilevano tutte le condizioni che ci sono intorno all'auto e se andiamo a fare guida possiamo guidare con questa griglia installata cioè guardate che figata incredibile è pazzesca eh guardate pazzesca adesso ve la faccio vedere da questa inquadratura che si vede meglio guardate che spettacolo c'è anche questa cosa guardate che fuori di testa non serve a niente perché in realtà non è un rilevatore di condizioni reali di quello che succede intorno all'auto per quanto riguarda eh questa mod però è una cosa estetica che la rende sicuramente sicuramente unica davvero davvero super super figa e guardate che storia è veramente pazzesca è sta cosa a me quando la prima volta che l'ho attivata mi ha lasciato senza parole perché è troppo figa perché adesso siamo abituati a vedere spessissimo queste auto di formula 1 quando fanno i test con queste griglie perché certamente le montano tutti e vederle anche in un gioco di simulazione rende questa simulazione ancora più reali di quello che è già cioè veramente veramente super super figa quindi ragazzi eh spero che questo video vi sia piaciuto ovviamente non è un tutorial su come installare la moda su come installare le grafiche che abbiamo visto eh perché comunque quello ci vorremmo è un video dedicato magari prossimamente lo farò però all'interno di tutti i file che andate a scaricare qua sotto vi lascio tutti i link c'è la spiegazione quindi c'è il file test che vi dice praticamente tutto quello che dovete fare poi vabbè la mod è super facile da installare le altre grafiche sono facili se già sapete utilizzare simab se no dovete prendere prima confidenza con simab che è appunto software che ci permette di fare tutte queste interfacce grafiche e poi allora una volta che avete imparato utilizzare simab potete andare a mettere queste interfacce grafiche che rendono questo mod e questo gioco a setto corsa ancora più reale eh per quanto riguarda il mondo della formula 1 è davvero qualcosa di incredibile quindi ragazzi se questo è il mio video in cui vi ho portato questa mod è dedicata alla formula 1 2024 grand prix 2024 vi è piaciuto l'avete trovato utile ed interessante lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su instagram dove porto tante non di tante prime spoiler dei prodotti che arrivano qua sul canale e tantissime cose dedicate alla simulazione arriva su instagram e sempre se vi va iscrivetevi anche al mio canale telegram offerte per sostenere questo canale dove posso tutti i prodotti scontati riguardante la tecnologia con anche più buono sconto quando riesco ad ottenerli e vi invito anche a seguirmi sul mio profilo usati poco da un air del medio sempre un profilo telegram dove potete andare ad acquistare i prodotti che ho recensito che però non tengo per me perché non posso tenere tutto e li trovate a prezzi davvero davvero pazzeschi ma quello che assolutamente dovete fare è iscrivervi a questo canale youtube per non perdere alcun video una recensione un testo un tutorial o una novità come questa mod grand prix 2024 24